Capodanno 2018 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 Dove si potrà seguire il capodanno in musica 3.018 di Canale 5 condotto da Federica Paricucci, l'appuntamento è fissato per le ore 20.50 circa in rigorosa diretta. Subito dopo il tradizionale messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che sarà trasmesso a reti unificate sui canali RAE Mediaset L A7. Tuttavia sarà possibile anche ascoltare dal vivo il concerto di Capodanno 2018 Mediaset sulle frequenze delle radio del gruppo ufficiale del Biscione, tra cui R101 e Radio 105. E poi ancora si potrà seguire l'evento anche in diretta streaming online sul sito ufficiale Mediaset It. Nel corso della serata, inoltre, vi segnaliamo che potete anche commentare le varie esibizioni del concerto di fine anno di Canale 5 attraverso l'hashtag ufficiale Capodanno in musica, che già in queste ore è in classifica tra i trend topic della giornata di Twitter. Grazie a tutti.